Comercianti e residenti del posto sul sentiero di guerra per il giro di prostituzione di giovani uomini ed incontri omosessuali a luci rosse a pagamento e non che avvengono a ridosso del canneto alla focce del cesano a senigallia diverse segnalazioni di questa situazione che ormai perdura da svariati anni ci sono giunte in questi giorni in redazione dai residenti della zona la maggior parte appartenente al complesso le piramidi che per diverso tempo hanno assistito al via vai di gente e di giovani extra comunitari verso la zona incriminata ma anche per le recentissime lamentele degli operatori commerciali del contenente il quale parcheggio è utilizzato da poco come punto di ritrovo da lì ci dicono parte un sentiero che porta al canneto e dalla spiaggia dove avvengono gli incontri hard un sentiero lungo che passa sotto due arcate una della nazionale ed una della ferrovia che rappresentano notte tempo e non solo ideali alcove dove appartarsi indisturbati questa mattina gli uomini del commissariato di senigallia coordinati dal dirigente agostino licari hanno effettuato un blitz che ha portato lo scompiglio in piena mattinata ai presenti al momento una decina di uomini adulti all'arrivo delle divise qualcuno si ricompone frettolosamente altri cercano di dileguarsi altri rimangono impassibili distesi nel canneto come nulla fosse il controllo delle identità dei presenti rivela le provenienze da località le più disparate sant'angelo in lizzola pesaro osimo ancona e via così dopo i controlli ritorniamo sui nostri passi assieme agli agenti della volante verso il parcheggio del centro commerciale con l'assicurazione che i controlli continueranno anche in futuro all'inizio della bella stagione che coincide inevitabilmente visto l'allungamento delle giornate e l'occasione di una tintarella integrale tra le frate con un aumento degli incontri e degli scambi come ci dicono a telecamere spente alcuni residenti che non vogliono farsi riprendere che ci esprimono però tutta la loro preoccupazione vista anche la presenza di diversi minori che abitano nella zona che non vorrebbero mai facessero spiacevoli incontri grazie 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 grazie